Salve a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Lo Sconosciuto e bentornati in una nuova recensione che va ad integrare un'altra recensione che è uscita ieri riguardante proprio solo a Star Wars Story. Come ho fatto ultimamente per questi film abbastanza attesi, ieri ho pubblicato la parte senza spoiler, una recensione un po' più attenta ovviamente al lato tecnico dal punto di vista cinematografico e oggi invece vi propongo la parte con i spoiler, quindi questo video e anche i commenti sotto il video sono spoiler. Se non avete visto il film e non volete rovinarvi la sorpresa, non guardate questo video, tornate dopo quando volete, ma dovete averlo visto. Questa recensione sarà un po' più amichevole, un po' più da fan, andremo a vedere i vari eventi del film e andrò a commentarli dicendo quello che mi è piaciuto e quello che non mi è piaciuto, in maniera un po' più così tranquilla, meno rispetto alla recensione di ieri. Ovviamente questo video va un po' integrato con la recensione di ieri, perché qua non starò a ripetere le cose che ho detto prima, ma sarà più, diciamo, un completare le cose che vi ho detto appunto nell'altro video. Quindi io direi di iniziare, mi raccomando, se non avete visto il film, abbandonate subito il video. La pellicola, come vi ho detto ieri, penso, o l'altro ieri, non so quando uscirà questa recensione, mi è piaciuta, certo, io ho dato un 7, però diciamo che secondo me è meno riuscita rispetto ad altri film di Star Wars, di questa nuova serie di film. È un buon spin-off, che racconta bene la storia di Han Solo, però diciamo non punta troppo in alto e quindi non risulta un ottimo film, ma un buon film. Da vedere che però presenta un buon numero di difetti. La fase iniziale, proprio i primi momenti del film, dove appunto ci viene mostrato questo giovane Han che si trova su questo mondo, praticamente dominato dalla malavita dei contrabbandieri, questa fase l'ho apprezzata. Comunque ti presenta le origini del personaggio, in maniera scontata lui si chiama Solo, proprio perché è Solo, perché non ha genitori, è un orfano, non sa niente delle sue origini e questa cosa comunque ci sta. Diciamo che è una battuta che da molto tempo si porta avanti in maniera scontata, ma effettivamente è proprio così. E poi questa prima fase appunto ti fa capire le sofferenze del personaggio, ti fa capire il rapporto tra lui e il personaggio di Emily Clark, Emilia Clark, e soprattutto ti fa già capire lo stile del personaggio, che poi verrà appunto portato avanti all'interno della pellicola. Un personaggio che sicuramente vuole levarsi dai casini, aspira a qualcosa di più alto, ma che comunque nel corso della pellicola imparerà che il mondo nel quale si trova è fatto di contraddizioni, è fatto di persone che ti tradiscono e che è meglio farsi fatti propri, continuare per la propria strada senza immischiarsi in cose particolari come ribellioni o altro. Un Ansolo che, diciamo, basa tutto sulla sua fortuna, sulla sua forbizia, sulla sua capacità di convincere, un Ansolo che a volte si crede chissà chi, ma poi si rende conto che è sempre sfortunato, un Ansolo che appunto ha tanta fortuna e riesce a scappare dalle situazioni più assurde e particolari proprio grazie alla sua scaltrezza, ma anche grazie a una buona dose di fortuna che magari si crea lui stesso, però sicuramente non gli manca. Un Ansolo che fa del suo carisma il suo punto di forza. La seconda fase, invece, quella praticamente dove lui diventa un soldato dell'Impero, l'ho apprezzata per alcuni punti di vista. Ad esempio, l'incontro con Giubecca, anche se abbastanza scontato, ci può stare. Mi è piaciuto un incontro non dettato dall'amicizia, ma, come dire, dalla necessità di entrambi di scappare e un rapporto che poi si andrà ad evolvere e arriverà al vero rapporto tra i due più sul finale. E mi è piaciuta l'evoluzione di Giubecca, il fatto che venga considerato come un mostro, la sofferenza del suo popolo comunque lo affligge, un Giubecca, possiamo dire, quasi partigiano, e questa cosa l'ho apprezzata. E poi ho apprezzato anche in quella fase lì, proprio, che viene mostrato un lato nuovo dell'Impero. I soldati, che non sono gli Stormtrooper, ma soldati semplici, che appunto rischiano la vita tutti i giorni alla fine per nulla, perché l'Impero di loro se ne frega. Ti viene mostrato anche la crudeltà militare, proprio, dell'Impero stesso. E questo lato l'ho apprezzato, ma, come ho detto nella recensione di ieri, mi ha anche un po' preoccupato, mi ha anche un po' infastidito in alcuni suoi elementi, perché va un po', secondo me, a snaturare e a togliere crudeltà e cattiveria e anche un po' con l'alone di mistero che aveva l'Impero. Infatti, non lo tirano troppo per le lunghe, questo, diciamo, questo elemento. E viene anche un po' smussata questa cosa dal fatto che i suoi compagni di squadra, che sembrano un po' fare i cavoli loro, nonostante l'Impero poi sia così oppressivo, scopri che sono appunto dei semplici contrabbandieri. Diciamo che quel momento lì poteva facilmente cadere in altre problematiche e sono riusciti a tenerlo su con una giusta scelta. Ti hanno mostrato questo nuovo lato, riuscendoci abbastanza bene. Il villain, il pirata, che poi si scopre essere una ragazza, praticamente, che darà poi il via a quella che dovrebbe essere la ribellione, che comunque farà parte della prima ribellione. Ecco, questo personaggio mi è piaciuto, comprende un classico elemento di Star Wars, ovvero lo svelamento della maschera, il personaggio che si toglie la maschera e scopri che è tutt'altro, una cosa che abbiamo visto già più volte all'interno dei vari film, con Darth Vader, con Kylo Ren e tanti altri. E sicuramente questo lato mi è piaciuto, ho apprezzato il personaggio, ho apprezzato il fatto che sia una giovane ragazza che dà vita alla ribellione e che ha un solo subito rifiuta di andare con quella ribellione, anche se poi ci tornerà, sono insaputa, e mi è piaciuto questo lato, anche quel personaggio. Altri elementi classici che però ritornano, invece, non li ho apprezzati del tutto. Ad esempio, la struttura narrativa è molto classica per quanto riguarda Star Wars. Ci sono i personaggi che sono in un punto, che scappano da quel punto, si riposano un attimo e devono per forza andare da un'altra parte, vanno da un'altra parte, anche in quel punto svolgono il loro piano, poi devono riscappare, hanno dei problemi per scappare, e quando ritornano a casa hanno altre problematiche e così via. Oppure anche altri elementi classici, come ad esempio le battutine alla Star Wars. Diciamo che tutti questi elementi classici del film li ho apprezzati, ma non del tutto. Ogni tanto stancano e danno un po' fastidio. Risultano un po' ripetitivi perché sono stati proposti in una maniera che abbiamo già visto tante altre volte all'interno della saga. L'idea proprio di Han Solo, che entra all'interno di questa banda di contrabbandieri per cercare di uscire dai suoi casini, ci sta, però poi rimane intrappolato in ulteriori casini, e questa idea mi è piaciuta. Così poi, come mi è piaciuta la scena dell'attacco al treno, sicuramente ben diretta, e mi è piaciuta anche l'idea di questa Alba Cremisi, di questi contrabbandieri di Alto Borgo. Non si capisce bene perché fanno questo, poi alla fine lo scopri, perché sostanzialmente sono sotto il controllo dell'impero. E come lo scopri? Con la presenza di Darth Maul. Ecco, io quel cameo lì non l'ho apprezzato più di tanto. L'ho trovato forzato e inutile, nel senso che poteva esserci qualsiasi altro personaggio al posto di Darth Maul, è giustificato, perché ti fanno vedere che lui ha le gambe robotiche, che quindi è sopravvissuto alla caduta, diciamo, in episodio 1, però diciamo che non aveva senso, cioè non hanno spiegato il perché proprio Darth Maul. Ci potevano essere tanti altri personaggi che forse potevano fare più stupire gli spettatori, quindi sinceramente non l'ho apprezzato e non mi ha toccato più di tanto. Ho apprezzato invece ovviamente l'evoluzione del personaggio di Emilia Clarke, un personaggio che ci sta, serve proprio per far capire a Dan Solo che il mondo nel quale si trova è pieno, è fatto di traditori, lei continua a fregarlo con i sentimenti e poi mi è piaciuto che alla fine non ti facciano capire se lei prova ancora qualcosa per lui, però per aver cara la pelle fa questo. Ti fa semplicemente vedere che si comporta male nei suoi confronti e basta, senza troppi problemi. Lei pensa solamente a se stessa come Anne dovrà imparare a fare per forza. Quindi il personaggio di Emilia Clarke, Emilia Clarke, come cavolo si dice, mi è piaciuta perché sicuramente ha un'ottima evoluzione, ha anche un'ottima psicologia con il personaggio e proprio il suo, come dire, scomparire dal punto di vista temporale per un po' e poi riproporsi in una nuova veste l'ho apprezzato. Perché appunto a Dan Solo gli sembra di essere vicino a una persona che conosce, ma in realtà non è così. Anche il personaggio di Woody Harleston mi è piaciuto, comunque il suo continuo fare un volta faccia, il suo essere un mentore, però forse involontario. L'iperlitti sembra un mentore buono, poi è un mentore cattivo, ma comunque un mentore, perché insegna a Dan che non bisogna mai fidarsi di nessuno. E sicuramente anche quel personaggio mi è piaciuto. La scena, o meglio le scene in cui Han vince il Falcon a carte, diciamo che l'ho apprezzata, cioè le ho apprezzate, anche se le ho trovate forse un pochettino forzate rispetto ad altri momenti storici di Han Solo che sono stati proposti in questo film. Sicuramente è interessante vedere come si è svolta con la partita, anche se mi aspettavo un po' più di epicità per un evento così, diciamo, iconico, possiamo dire. C'è anche la citazione ad Han Shot First, ovvero Han spara per primo. Infatti nella scena in cui lui spara per primo al personaggio di Woody Allen, son lì, è proprio una citazione a quella cosa, al fatto che Han Solo ha imparato che sparare per primo è sempre la scelta migliore. E lo fa sparando comunque a una persona la quale pochi minuti prima teneva tanto. E quindi quello mi è piaciuto perché è proprio un po' un passaggio del personaggio da giovane a adulto. Dice anche la tipica frase ho un buon presentimento che poi nel futuro diventerà ho un brutto presentimento. Le dinamiche con Giubecca invece ci stanno comunque subito, come ho detto, sono abbastanza familiari. Sicuramente ci sono tutti gli elementi che ti fanno dire che quella persona sarà Han Solo nel futuro. Il tradimento, diciamo, dalla sua amata poi si rifletterà con, diciamo, il timore che ha nei confronti del rapporto con Leia o Leila che dir si voglia. Il fatto che viene tradito appunto dal personaggio di Woody Allen poi lo renderà più diffidente nel futuro. Il fatto che vive tutta questa vicenda gli fa capire che se ne deve stare per i fatti suoi e non partecipare a niente ed è proprio questo che lo spingerà all'inizio a essere reluttante nell'aiutare la, come si dice, la ribellione. Ci sono tutti gli elementi che porteranno il nuovo Han Solo. Sicuramente quello sono riusciti a giustificarlo. Spiegano come mai il Falcon è tutto distrutto e comunque vedere il Falcon un minimo di emozione te la suscita anche se speravo fosse enfatizzato un po' di più. Alla fine non si capisce dove stanno andando probabilmente da Jabba a fare i contrabbandieri per lui e probabilmente a riscuotere ancora più debiti infatti poi Han Solo diciamo avrà dei debiti con Jabba. Mi sarei aspettato lui ad esempio o un Boba Fett che a me è i più significativi di Darth Maul sinceramente. La fase diciamo del pianeta dove devono andare per prendere quel minerale particolare e portarlo indietro tutto quel momento lì mi è piaciuto è stato molto ben girato divertente mi è piaciuto proprio come hanno strutturato il piano nel pieno stile Star Wars ma lì funziona e ho apprezzato anche altre cose come ad esempio il droide L3 che mi è piaciuto tanto che ha questa personalità particolare di questa donna comunque un po' avanti con l'età che è innamorata di cioè comunque è innamorata di Lando ma non lo dice e anche Lando che è innamorato di lei è una cosa stranissima ma che un minimo sono riusciti a giustificarla anche in maniera scherzosa e lei appunto che vuole fare la ribellione dei droidi è una cosa che mi è piaciuta che ha un po' un sottotesto comunque di critica interessante come dire dà valore ancora di più al mondo dei droidi di Star Wars sia in maniera divertente che anche in maniera più seria poi Giubecca appunto partigiano ci sta cioè come ho detto mi è piaciuto perché è un Giubecca che appunto risente di quello che gli è successo prima nella trilogia prequel e che diventerà il Giubecca che è il Giubecca che appunto vedremo poi in futuro nella trilogia originale che ha tanti anni alle spalle e più o meno le linee temporali si incastrano anche se magari non del tutto ma non è che uno deve andare a fare il puntiglioso a vedere gli anni quando succede una cosa e l'altra più o meno il tutto fila anche nel momento in cui scappano dai cacciatai in cui si infilano con la specie di nebbia dove c'è il buco nero con il mostro poliposo anche con la scena lì molto bella e ovviamente fanno la rota di Kessel in 12 parsec citazione ben proposta all'inizio dicevano dicevo ecco lì che te la propongo in maniera scontata invece sono riusciti comunque abbastanza a trattenersi il finale proprio tutta la fase finale con diciamo il continuo tradirsi da parte di tutti solo viene fregato ma in realtà poi aveva già previsto tutto diciamo il colpo di scena della ragazza pirata della ribellione diciamo proprio quella fase finale mi è piaciuta perché conclude comunque bene il tutto e offre appunto le ultime evoluzioni necessarie per far diventare Han il solo che conosciamo quella parte è anche ben scritta un minimo secondo me perché liquida tutti i personaggi che poi in futuro non li vedremo più e quindi ti fa capire perché non li rivedrai più almeno che non facciano un seguito perché ci sono dei rumor che dicono appunto che potrebbero fare un seguito di questo di questo un solo io non lo richiederei sinceramente spero che se lo devono fare lo facciano in maniera un po' più significativa di questo film che come ho detto è bello ma poteva dare sicuramente di più il tema della marcia imperiale durante il momento in cui Han combatte per l'impero proprio non c'entrava niente secondo me non hanno fatto bene a metterlo perché la marcia imperiale è dedicata principalmente a Fener a Darth Vader come volete chiamarlo però ho apprezzato comunque gli altri temi che richiamano il classico tema di Star Wars e tanti altri ci sono i titoli iniziali però non a scorrimento perché appunto questi spin off si vogliono un po' differenziare erano necessari perché appunto qualcosa dovevano spiegare dovevano un po' contestualizzare il tutto il mondo proposto come ho detto anche fotograficamente è molto grigio arido però comunque un minimo diciamo caldo lucente perché non si vuole portare troppa cupezza nel film dato comunque un film solo al solo però c'è molto grigiore molta oscurità in questo mondo di contrabbandieri soprattutto la fase iniziale quella dove dove ci troviamo in quel mondo lì dove appunto solo e la sua ragazza sono praticamente cresciuti dove costringono i bambini a fare i contrabbandieri o comunque a rubare un mondo molto particolare tipico del lato più oscuro di Star Wars ho apprezzato anche altre cose che sono state proposte il pianeta dove appunto tengono il minerale tutti gli altri pianeti mostrati il posto dove si incontrano con l'Hando diciamo che l'universo di Star Wars viene espanso nel suo stile speravo qualcosa di più per quanto riguarda il lato di pilota di scaltro pilota di Han Solo che viene mostrato ma speravo che le sue abilità venissero messe in mostra un po' di più sicuramente è un Han che sta imparando quindi un po' ci può stare la cosa e ho apprezzato il fatto che alla fine l'unico amico che gli rimane è realmente Giubecca e sarà sempre così però appunto come ho detto Han Solo c'è è presente è ovviamente il protagonista della pellicola però mi aspettavo una sua presenza e un suo carisma ancora maggiore come ho detto nell'altra recensione si sono secondo me un po' trattenuti per non rischiare troppo soprattutto su un personaggio così delicato visto che è uno dei personaggi classici questo è il mio parere con gli spoiler spero di non essermi dilungato troppo troppo fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti dovrei aver detto più o meno tutto le cose principali io come ho detto vi consiglio di vedere il film secondo me è un buon film da 7 ma che poteva dare di più sicuramente non da scartare secondo me è il peggiore dei nuovi film ma non brutto ripeto a qualcuno sicuramente non piacerà e altri lo apprezzeranno tanto fatemi sapere se voi siete appunto tra questi o se come me siete più moderati più nel mezzo noi ci vediamo in un prossimo appuntamento ovviamente che la forza sia con voi e alla prossima ciao a tutti grazie a tutti